Continua l'azione di controllo dei carabinieri del Comando per la tutela ambientale per contrastare il fenomeno delle violazioni in materia ambientale presso i principali impianti di trattamenti dei rifiuti della provincia di Salerno. Ad Eboli, nell'ambito di una mirata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, i carabinieri del NOE di Salerno hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di un impianto di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche. La misura cautelare è scaturita anche a seguito di numerose segnalazioni ed esposti giunti da locali comitati ambientalisti e cittadini residenti nelle aree limitrofe e all'impianto per miasmi percepiti fino all'imitrofo centro abitato. Un sequestro preventivo che parte dall'indagine del 2017 di cui eravamo già stati informati e che la società che gestisce l'impianto aveva già adempiuto alle prescrizioni di allora. Ci sono altre piccole prescrizioni degli ultimi dati che sono stati degli ultimi controlli e stanno adempiendo come appunto avevano già garantito. Sinceramente credo che questa cosa possa servire soltanto a migliorare l'utilità dell'impianto. Io ritengo che la magistratura debba fare il suo percorso come appunto ho dichiarato già nel 2017, però sono anche certo del lavoro importante che sta facendo la società Ladurner e dei controlli che sta facendo di tecnico nominato dal Comune di Eboli. Quindi non c'è un caso compostaggio, i miasmi sono da attribuire a una concausa? Io ritengo che su questa cosa, a di là dei falsi entusiasmi da parte di coloro che credono che questo sia un effetto benefico, bisogna invece fare un ragionamento di squadra di tutto il territorio, capire i pro e i contro. E su questa cosa io continuo a insistere nel percorso importante che sta facendo l'amministrazione comunale che è quello di una sanificazione importante e complessiva non solo dell'impianto ma anche di quello di un intervento comprensivo su tutto il territorio che è quello appunto diciamo anche delle norme di attuazione che stiamo mettendo in campo per evitare casi simili. Grazie.